Hai preso il cuore mio, sciarpi al cielo avrai, ovunque tu sarai, tu da piano sei. E dalla nostra città nasce un grido, ora e sempre vola per noi, più in alto che puoi. E noi qui con te, un vento che soffia, forse vola per noi, monopoli vai a segnare. Per chi è in un sogno che noi viviamo qui. Viaggio senza età, passione e libertà. Lo stadio canta già, insendi in campo e vai. Tu che a piano sei, nella nostra città, il grande cuore ora e sempre vola per noi, più in alto che puoi. E noi qui con te, un vento che soffia, forse vola per noi. E noi qui con te, un vento che soffia, forse vola per noi. Amici di Vado in diretta. Sportivi della Puglia, buongiorno da Giacomo Caporusso in diretta da Bitritto, dallo stadio comunale Gaetano Scirea per assistere a questa ultima giornata di campionato di andata del campionato allivi nazionali under 17 di serie C, girone H. E allora subito con le formazioni. Iniziamo dal Monopoli. Bellavista, Bellavista, Riefolo, Capitano, Morisco, De Vietro, Andrisani, Sorgente, Fanelli, Beniti, Calefato, Sasanelli, De Michele, allenatore, Mimmo, Biasin, Panchina, Piarulli, Cardine, Monno, Graziano, Pipoli, Cattedra, Tataru, Silvestri, Morella. Questa invece è la formazione ufficiale del Bari, Iurino, Orlando, Lambiase, D'Addario, Catacchio, Stella, Colamesta, Lops, Balducci, Leone, Lorusso, allenatore il signor Paolo Lanera in panchina. Pellegrini, Lacandela, Nacci, Vigna, Gusmai, Rana, Cellammare, Colonna, De Marzo arbitrerà l'incontro il signor Sarcina Francesco Pio della sezione di Barletta assistito da Massimino e Daniello della sezione di Molfetta. Naturalmente qualche secondo perché la rete alla nostra sinistra probabilmente c'è un buco e dunque vanno subito a sistemare prima di dare il via all'inizio a questo incontro importante. Nel frattempo ne approfittiamo per leggere quella che è la classifica attuale cioè Monopoli a punteggio pieno con 12 punti seguiti da Barie, Virtus, Francavilla con 6, Potenza e Biceglie con 5, Foggia un solo punto. Sembra tutto pronto, adesso anche il direttore di gara si appresta a posizionare il pallone nel cerchio del centrocampo e naturalmente per gli amici sportivi la visione da a sinistra in completo bianco la squadra del Bari a destra. Il Monopoli in completo, completamente verde. Prima di iniziare permettetemi di porgere a nome della redazione di Vado in diretta e di Barletta Live le condoglianze al nostro amato editore Ruggero Pedico per la perdita dell'amatissima nonna Forza Pedico da tutti noi. Allora entriamo subito in cronaca diretta, una partita importante questa per il Monopoli per continuare ancora questo ciclo di vittorie consecutive e dunque suggellare in maniera definitiva il primato in classifica mentre il Bari dal canto dei suoi 6 punti cercherà di improntare e soprattutto fermare la capolista. Il Bari ora in possesso di palla nella propria metà campo con Orlando si fa vedere ma il pallone è su Iurino ancora per vie orizzontali il lancio a superare la metà campo dove però c'è ben posizionata la difesa bianco verde in questa occasione era Andrisani. Cambio direttamente di fascia dall'altra parte dove Fanelli in corsa riesce a recuperare il pallone a crossare ma direttamente tra le braccia del portiere Iurino. Dunque è sempre 0 a 0 il risultato, siamo in diretta da pochi minuti dallo stadio comunale Gaetano Scirea di Bitritto per questa ultima giornata di andata del campionato allievi nazionali Under 17 Serie C Girone H, quinta giornata. Ricordiamo anche lo scorre del Bari che ha totalizzato fino a questo momento tre pareggi ed una vittoria. Pareggi con Foggia e Biceglie 2 a 2 con il potenza 0 a 0 e la vittoria contro il Virtus Francavilla. Gioco interrotto e dunque si riprenderà con la rimessa laterale per la squadra dei Galletti in tenuta bianca che manovra sulla sinistra, pallone che entra in area, forse una spinta da parte di Lorusso così è in effetti. E dunque il gioco viene interrotto dal direttore di gara per cui si riprenderà con il calcio di punizione. Alla battuta c'è Bellavista, Bellavista che chiama i suoi a spingersi in avanti, probabilmente il suo sarà un lancio lungo anche se si fa vedere a sinistra De Michele che viene subito servito. De Michele cerca di alimentare l'azione sfruttando la velocità del numero tre Morisco, l'anticipo perentorio di Orlando che poi in disimpegno, uno scontro del tutto causale, nulla di grave, si rialza il giocatore bianco-rosso, era calefato l'autore dello scontro naturalmente del tutto involontario. Si continua a giostrare, Sassanelli sulla destra sempre per Fanelli, guadagna metri il Monopoli con una rimessa laterale. Con le mani Sassanelli su di lui da Dario, pallone che può giungere a De Michele, c'è ancora Orlando in disimpegno direttamente sull'attaccante bianco-verde, dunque con molta calma il Bari riprenderà il gioco. Ricordiamo una giornata calda fusa estiva, si toccano i 30 gradi con un leggero vento, il terreno di gioco è in ottime condizioni. Il Bari sulla sinistra parte centralmente, riceve Balducci, capitano del Bari. Pronto l'intervento però dell'altro capitano, Riefolo in questo caso. Sono passati quattro minuti dall'inizio della gara, il risultato sempre di 0-0 con il Monopoli che adesso cerca la sortita con Calefato. Pallone che viene arpionato dallo russo, posizione centrale, in avanti forse c'è il tocco e il cartellino giallo per Beniti. Primo giallo della partita è il numero 8 Beniti che ha interrotto una chiara occasione da gol, il Bari si proponeva in avanti. Fallo anche tattico per il giocatore del Monopoli. Assistiamo dunque a questo pericolo per la squadra bianco-verde. Un calcio di punizione dai 35 metri, forse 40, tre uomini in barriera. Si parte tutti dalla linea dell'area di rigore per evitare il fuorigioco. Pallone centrale sulla barriera, potrebbe ripartire in contropiede il Monopoli e c'è questo durissimo fallo di Orlando che viene giustamente ammonito secondo giallo. Un brutto fallo su Sasanelli che si era involato sulla sinistra, falciato da dietro e dunque in poco meno di qualche secondo due cartellini gialli, uno per parte. Sulla palla Morisco in attesa della sfera che adesso il direttore di gara restituisce. Sarà una punizione da schima, infatti il giocatore Morisco alza la mano destra. Vediamo in effetti il suo sinistro in area di rigore. L'anticipo dei giocatori bianco-rossi. Spizzica la palla, lo russo, ma c'è Andrisani. Per bella vista, bella vista fuori dall'area di rigore. Chiede sostegno al difensore laterale. Allora pensa e fa bene di rilanciare il pallone. Di testa ancora Catacchio indietro per Iurino che non può toccare il pallone con le mani. Porta spasso e ancora Catacchio. Questa volta spostato sulla destra. Su di lui De Michele che poi copre Orlando. Ancora Catacchio. Tre su di lui. Ne approfitta ancora in maniera egregia De Vietro. Non c'è fallo. Si continua a giocare. Regola del vantaggio. Poi ancora il Monopoli con Andrisani. E c'è anche Sorgente. Riefolo sempre sulla destra. Recupera il pallone. Lorusso limite dell'area di rigore. Balducci scivola. Non c'è fallo. Di testa svetta De Vietro. Il rinvio nella propria metà campo. Ancora batti e ribatti. Siamo nella metà campo del Monopoli con l'azione di Leone in area di rigore. C'è soltanto la maglia verde per i giocatori allenati da Biasi. Centralmente il lancio di De Michele per Fanelli non ci arriva. Merito anche di Iurino che blocca con le mani ed alimenta il gioco della propria squadra. Centralmente c'è Orlando. Viene servito. Due su di lui. Supera il primo avversario. In questo caso De Michele. Poi è costretto a ripiegare indietro sempre per Catacchio. Buone le marcature in fase difensiva della squadra bianco-verde che riescono a chiudere e raddoppiare allo stesso tempo le iniziative degli avversari. Ora con Riefolo. Fallo laterale. Già battuto. Centralmente il Monopoli. Fa girare palla. Ora con Morisco. De Michele. Lancio lungo dove però c'è Catacchio di testa. Pallone per Colamesta. De Vietro senza far fallo. Anzi lo subisce da Colamesta. Calcio di punizione sulla palla Sasanelli. Anche lui chiama uno schema. Vediamo come formerà la barriera. Un solo uomo. Sasanelli capace di calciare anche dalla distanza. Il suo destro però è pennellato nell'area di rigore. Pallone troppo lungo che termina alla sinistra della porta difesa da Iurino. Ci avviciniamo al decimo minuto del primo tempo. Risultato sempre di 0 a 0. Vi ricordo in diretta da Bitrito. Campo comunale del Gaetano Scirea. Indimenticabile. Libero della Juventus. Ma anche di un'Italia stravolgente. Travolgente. Si ritorna in cronaca diretta. De Michele lancia per Morisco. Orlando fa buona guardia. Coadiuvato anche da Catacchio. Nella formazione del Bari salta subito all'occhio la quantità di 2.500. Ne contiamo almeno 6. Ricordiamo Under 17. La maggior parte è 2004. Nel Monopoli invece l'unico 2005 è Beniti. Beniti peraltro ha monito insieme ad Orlando nella prima fase della partita. Sarà calcio d'angolo per il Monopoli. De Michele posiziona con cura il pallone nel vertice della lunetta. Pallone spiovente di testa. Colpisce il giocatore del Monopoli. Ma attenzione al contropiede di testa. Riefolo ancora con Sorgente. Poi può approfittare il Bari. Attenzione c'è il colpo di testa di Andrisani. Che evita problemi per l'arrivo di Lorusso. Gioco che si sposta dall'altra metà campo con De Michele. In profondità Sasanelli sbaglia. E allora ci pensa con la mesta. Fa partire l'ops di testa ancora sorgente. Siamo sempre però 0-0. Partita abbastanza equilibrata con il Monopoli che ha preso bene le misure alla squadra bianco-rossa. Ma d'altronde il Bari che fino a questo momento non ha subito nessuna iniziativa importante da parte degli attacchi bianco-verdi. E dunque sullo 0-0 si continua ancora. Sulla destra con Orlando. Ne ha due su di lui. Pallone che rimane tra i piedi per un attimo del giocatore bianco-rosso. Ma poi il disimpegno in fallo laterale. Dunque si riprenderà ancora con una rimessa dal fondo. Ricordiamo invece il cammino del Monopoli. Quattro partite vinte tutte. In maniera anche pesante. Come con il Foggia e il Biceglie. Sette le reti realizzate dalla squadra di Mimo Biasi. Che tra i record porta anche il capocannoniere Sasanelli con sette gol. Seguito da Tataru cinque. Pensate che le altre squadre hanno realizzato al massimo sei gol. Solo il Biceglie e sette gol in totale. Che lo scorro poi di Sasanelli. Calcio d'angolo invece per il Bari. Grande mischia in aria. Si fa vedere Valducci. Pallone pericoloso. Che attraversa parallelamente la linea della porta difesa da Bella Vista. Ma nessun giocatore del Bari è stato in grado di calciare, toccare di quel poco che serviva per mettere a segno il gol. Dunque nulla di fatto. Zero a zero sempre qui dal campo comunale Gaetano Scirea di Bitritto per questa diretta del campionato allievi nazionali Under 17 Serie C. Girone H. Questa è la quinta giornata ma in realtà anche l'ultima giornata di andata di questo girone. Morisco sulla sinistra. Chiede e riceve triangolo. Sasanelli tocca il pallone. Corto per De Michele. Ma c'è De Vietro che fa partire Fanelli. Non c'è fallo ancora Fanelli. È libero De Michele. Fanelli carica il sinistro. Pallone di mezzo metro fuori alla sinistra di Iurino. La prima vera occasione da gol per il Monopoli si concretizza proprio sui piedi di Fanelli anche se in realtà poteva servire De Michele. Comunque buona l'iniziativa del numero sette monopolitano. Prima azione degna di nota da registrare sul nostro taccuino. Il Bari prova a ripartire. Ci avviciniamo al primo quarto d'ora del primo tempo. Risultato sempre di zero a zero pochi istanti fa un'azione del Monopoli pericolosa. Ma adesso c'è la ribattuta di Colamesta. Pallone che dalla nostra posizione dà l'effetto ottico del gol. Grandissima conclusione del numero sette barese. Dai trenta metri fa la barba alla traversa di un'incolpevole Bella Vista che ha tentato ma non è riuscito a toccare il pallone. Rimesa dal fondo. Il destro di Bella Vista. La testa di Beniti. Beniti che ha chiamato i suoi a pressare i giocatori del Bari nella propria metà campo. Un urlo rimasto inascoltato perché è solo il numero otto che adesso retrocede. Naturalmente bisogna gestire i novanta minuti e considerare anche una temperatura poco gradevole per i ragazzi in campo. Fuori gioco. Posizione di offside da parte di Balducci. Ha funzionato la tattica del fuorigioco nella difesa dello Monopoli. Calcio di punizione con Morisco. Fa girare il pallone per Andrisani. Chiede e riceve palla a Bella Vista. Non c'è pressing da parte dei Galletti. Allora Bella Vista. A rinviare Lunco sfiora il pallone. Sasanelli e poi cerca Beniti un lancio impossibile per De Michele. Si riprende con il Bari. Sempre Catacchio. Anche lui 2005. Prova a pressare un po' il Monopoli. Riefolo. Pallone in fallo laterale. Si riprenderà con le mani. Sempre il Bari. Guadagna metri. Supera la metà campo. Chiede il posizionamento esatto della battuta. Avviene con Balducci. Balducci. Entra in area Balducci senza far fallo. Ottima l'interdizione del difensore del Monopoli. Senza commetter fallo. De Vietro. Centralmente. Sbaglia. Recupera. Orlando. Ancora Orlando. Rischia. Per l'intervento con la testa di Sasanelli. Infatti è lui l'ultimo ad aver toccato il pallone. Dunque Orlando può far ripartire i suoi. Questa volta dalla parte destra del campo. Con le mani. Lungo. Spizzica il pallone Balducci. Poi non ce la fa troppo lungo il pallone per De Michele. Orlando con le mani. Sempre il Bari. Questa volta è bravo De Vietro a far carambolare il pallone sui piedi dell'attaccante bianco-rosso. Così da recuperare il possesso palla attraverso questo fallo laterale. Con molta calma è sempre il numero tre Morisco. Posizione esatta. Con le mani. Pallone lungo per Sasanelli. Tra traversari non c'è fallo. Si continua a giocare il pallone. Uno due. Molto bello. La conclusione dalla distanza di Colamesta. Ancora lui. Sembrerebbe quello più insidioso dei baresi. Con il numero sette Colamesta. classe 2005. Recupera ancora il pallone il Bari. Che in questo momento sta offendendo di più rispetto alla squadra bianco-verde. Sempre presenti i giocatori in casacca bianco-rossa. Superiorità territoriale per i giocatori allenati dalla nera Paolo. In realtà fino a questo momento sono solo due le occasioni da annotare. Una per parte. Colamesta e Fanelli. Protestano i giocatori del Bari. L'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore in maglia bianco-rossa. Tocco falloso naturalmente. E si riprenderà con il calcio di punizione. Già battuto da Morisco. Indietro per Andrisani. Ritmi naturalmente lenti e molto blandi. Anche perché la temperatura è davvero alta. Spostato sulla destra. De Michele. Scivola poi anche Calefato. Rimessa laterale per il Bari. Sulla palla. Proprio sulla linea del centrocampo. Tutto pronto. Con le mani. Battuta. Di testa. Svetta il giocatore del Monopoli. E poi Sasa a far proseguire Calefato. Ma devo dire ben registrata la difesa del Bari. Ogni presente. E soprattutto in marcature. Molto strette. Tanto da non permettere il gioco orchestrale. Che il Monopoli ci ha abituato in queste partite. 0 a 0 il risultato. Guardate come i giocatori ne approfittano nei momenti di fermo della partita per rinfrescarsi. Perché la temperatura è insopportabile. Caldo estivo da mare. Si riprende. Dopo questo piccolo break a favore dei giocatori del Monopoli. Calcio di punizione direttamente in aria. Troppo lungo. Per tutti. Di potenza. Questo calcio di punizione. Anche i giocatori del Bari ogni tanto quando possono ne approfittano per tirare il fiato. Non è facile giocare quest'oggi. Leggero vento iniziale che si sta praticamente annullando. Lasciando afa e umidità. È più di 30 gradi. Il Bari sulla sinistra ci prova. Non c'è pressing e allora l'1-2 con Balducci. Riefolo. Ancora Catacchio. Tenta Lambiase. Guadagna comunque un fallo laterale. Ventiduesimo. Sempre 0 a 0 il risultato. Partita molto equilibrata con due formazioni che stanno badando più a difendere che attaccare. Almeno in questa prima parte c'è un evidente fallo da parte del numero 5 Andrisani che ha spinto il giocatore in casacca bianco-rossa da cui è scaturito il calcio di punizione. Quattro persone sulla palla. Si allontanano man mano gli altri. Rimane soltanto con la mesta. Breve la distanza. Potrebbe addirittura tentare la conclusione a rete. Sasanelli va via dalla barriera. Dunque solo due uomini in casacca verde. In barriera il sinistro direttamente in porta. Fuori misura. Sotto l'attenta osservazione di Bella Vista che si è assicurato che il pallone terminasse fuori. Ancora Bella Vista. Non sa chi dare il pallone. Allora opta per il lancio lungo nella metà campo. stop di petto a seguire. Ma ancora una volta i Galletti fanno buona guardia e dunque possono cercare di impostare sempre con Catacchio. Centralmente il pallone toccato da Cola Mesta e poi sulla destra con Lorusso. Lorusso non c'è fallo. Entra in area il suo sinistro. Mette al centro il pallone. Providenziale. L'intervento del giocatore del Monopoli. Ancora il Bari ci crede. Avanza questa volta addirittura con Orlando che entra in area di rigore. Questa volta l'intervento di Andrisani è efficace e puntuale. Manda il pallone in calcio d'angolo. Dunque si riprenderà ancora con un corner per il Bari. Che ai punti sembrerebbe vincere fino a questo momento l'incontro. Ricordiamo però che il risultato è ampiamente bloccato sullo 0-0 con due squadre chiuse a difendersi. Due squadre che ancora non hanno cercato di scardinare le difese avversarie gestendo la partita con marcature strette. Ci prova ancora l'OPS ma ancora una volta la difesa del Biceglie è attenta. Quasi al venticinquesimo dalla bandierina c'è l'OPS destro di testa anticipo del giocatore del Monopoli. Non riesce a trovare la strada giusta. La squadra bianco-verde sta soffrendo gli attacchi dei baresi che in questo frangente si stanno davvero facendo sempre più ripetuti. Orlando con le mani. Ottimo il gioco di gambe del numero 8 del Bari. Rinvia la squadra del Monopoli ma c'è ancora Orlando. Pallone poggiato sempre per l'OPS. Pallone che però gira pericolosamente nell'area di rigore. Dove le maglie bianco-verdi riescono ad uscire fuori. Attenzione, era De Michele ma ancora questa azione di Calefato. L'uscita di Iurino. Orlando sulla destra. Pallone questa volta bloccato da De Vietro. Il suo lavoro di interdizione nel centrocampo. E anche in questo caso ha avuto la meglio. Con le mani sempre Orlando. Non sa chi dare il pallone. Allora rinvio lungo. Tocca Balducci. E poi ancora Lorusso. Pallone che non filtra grazie all'intervento del difensore bianco-verde. Riefolo. Metta a terra il pallone. Guarda il piazzamento dei compagni. Il lancio lungo. Forse troppo lungo. C'è attenzione. Catacchio chiede intervento a Iurino. Iurino si disimpegna bene. E poi cambio di campo. Con Lorusso indietro. Ancora Lorusso. Pallone in campo. Morisco. Il suo sinistro. Amo. Russo con i piedi. Il rinvio. E c'è ancora Lops. D'affiato alla manovra con Stella. E poi a sinistra. C'è Riefolo su di lui. Ancora una volta. Sorgente. De Michele. Uno, due. Ancora De Michele. Scatta. Velocissimo. Sulla sinistra. De Michele. Scivola ma recupera. Scivola anche l'avversario. Il destro a rientrare. Bellissima questa conclusione. Destro a rientrare sul secondo palo. Pallone arpionato da Iurino. Senza problemi. Ancora il Bari. Si accende la partita. Mentre ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo. Il risultato è sempre di 0 a 0. Grandi capovolgimenti di fronte. Da parte delle due squadre. Che adesso si sganciano un po' dall'azione retroattiva. Difensiva. cercano e optano per qualcosa di più. Per smuovere il risultato. C'è il fallo. Ci sarà un calcio di punizione. A favore del Bari. Per la precisione ventisettesimo del primo tempo. Risultato sempre di 0 a 0. No, non lo farei venire. Allora, vediamo l'evolversi di questo calcio di punizione. Pericolo per il Monopoli. In 4 in barriera. Vedremo quale soluzione opterà la squadra del Bari. C'è il numero 10. Finta. E poi la conclusione. diretta, ma senza problemi. L'estremo difensore del Monopoli. Blocca. Sempre bella vista. Pallone lungo per De Michele. Di testa. Orlando viene superato per un attimo. Ma c'è sempre Catacchio. De Vietro. Stoppa bene. Poi c'è su di lui due avversari. L'ultimo a toccare il pallone. E ancora una volta il difensore del Bari. De Vietro con il numero 4. Lascia a Morisco con le mani. Morisco. Guarda il posizionamento dei propri compagni. Metà campo barese. Due di testa e c'è Sasanelli. Pallone al centro dove il libero Biancorosso manda il pallone in calcio d'angolo ma è rimasto a terra il numero 9 e calefato del Monopoli prova a rialzarsi. Speriamo nulla di grave per lui. Calcio d'angolo per il Monopoli. Sasanelli Tutto pronto? Battuto corto. De Michele carica il destro direttamente in porta. Iurino guarda soltanto che il pallone termini in fondo al terreno di gioco Catacchio Iurino Iurino esce fuori palla al piede chiede riceve l'intervento del terzino sinistro che non ha nessun avversario a contrastarlo e allora Morisco senza ragionare ancora il Bari questa volta con D'Addario non c'è pressing e allora si tenta l'incursione centrale non ci sono attaccanti a fermare la squadra bianco-rosa De Vietro gioco di gambe poi De Vietro subisce fallo ai danni di Lorusso può rientrare intanto il giocatore del Monopoli chiedeva un intervento più celere è andato il direttore di gara Sarcina a placare un po' gli animi dunque è ristabilita la parità numerica dei calciatori in campo così come quella che da 30 minuti esiste nel risultato Bari zero Monopoli zero regge la difesa bianco-rossa stenta l'attacco bianco-verde che ci ha abituato a ben altre prestazioni soprattutto numeriche ma c'è ancora tanto da giocare e naturalmente la stanchezza fisica conterà tantissimo nel perdurare dell'incontro di testa evita problemi riefolo e fa bene permettendo così al Bari di guadagnare questa rimessa laterale siamo vicini al limite dell'area di rigore battuto il fallo laterale sempre il Bari in possesso palla 1-2 pallone ancora centralmente pericolo l'esterno destro del numero 7 ma l'azione continua chiedono un tocco con le mani secondo il direttore di gara ben piazzato è stato sì un colpo di mano ma involontario per questo ha lasciato proseguire ma attenzione perché con la mesta ci mette ancora il suo esterno e questa volta è stato bravo bella vista sicuramente sugli scudi questo numero 7 bianco rosso classe 2005 con la mesta e lui il pericolo costante della difesa bianco verde risultato che però non si muove sempre 0 a 0 qui dal campo sportivo Gaetano Scirea di Bitrito ora De Vietro prova a sfondare per via laterale entra in area supera l'avversario ancora De Vietro pallone indietro non si capisce con Sasanelli poi c'è la conclusione ma prima ancora il direttore di gara interviene per fermare il gioco probabilmente il Monopoli spaventato da questa nuova azione del Bari ha tentato l'offensiva questa volta con Di Vietro che ha messo a centro il pallone ma Sasanelli non si è fatto trovare pronto per il guizzo finale dunque il Bari superato questo altro pericolo prova di impostare sempre partendo da dietro per vie laterali con Iurino e poi sulla sinistra ancora il terzino bianco rosso non ci sono giocatori bianco verdi ad offendere a cercare di chiudere le iniziative del Bari e così la squadra allenata dalla nera gioco facile soprattutto nelle triangolazioni non c'è il pressing asfissiante da parte dei bianco verdi trentaquattresimo meno nove più recupero meno undici in realtà più recupero calcio di punizione per il Monopoli di testa la difesa del Bari con il tocco di Leone la profondità pallone troppo lungo ma c'è l'intervento del direttore di gara che assegna un nuovo calcio di punizione si lamenta giustamente l'allenatore Mimmo Biasi chiedendo più compattezza infatti i settori sono molto disgregati non c'è collante tra centrocampo e attacco e difesa centrocampo per cui il mister ha notato questa disfunzione nella propria squadra e ha chiamato i suoi a restare più coordinati soprattutto nell'amalgama dei reparti in campo il Bari non sta rubando niente anzi grande merito per la squadra bianco-rossa soprattutto con la messa autore di alcuni interventi davvero pregevoli e solo un po' di sfortuna e l'intervento anche di bella vista ha evitato il peggio alla squadra bianco-verde che ora ne approfitta con De Michele 1-2 con Sassanelli non c'è fallo ancora una volta lui con la messa a partire centralmente si fa vedere Leone non c'è fallo De Michele subisce il fallo si incattivisce un po' la partita arriva l'intervento del direttore di gara che chiama i contendenti in campo a mantenere la gara fino a questo momento partita sostanzialmente attenzione stop di Sassanelli e scivola attenzione probabilmente una costante nei calciatori spesso scivolano come in questo caso bravo Sassanelli a stoppare di petto e poi a eludere l'intervento del difensore ma proprio nel momento in cui doveva calciare a rete purtroppo si è accasciato a terra è scivolato ripeto è il terreno di gioco che non permette un'aderenza perfetta è già capitato ad altri giocatori non solo del Monopoli anche a quelli del Bari Monopoli che può ripartire con De Michele De Vietro è costretto a seguire un'azione solitaria per Sassanelli su di lui il numero due Orlando non c'è fallo protestano l'azione prosegue ancora con il Bari centralmente c'è questo ottimo intervento di Beniti Lops Orlando sempre però il Bari nella metà campo avversaria grande risultato della squadra di Paolo Lanera in questi minuti c'è questo attacco ancora Morisco De Vietro grande difficoltà del Monopoli che adesso prova ad attaccare si distende la squadra bianco-verde parte sempre dalla sinistra con De Michele la profondità è buona per De Vietro che viene fermato da Catacchio trentasettesimo Morisco con calma prende il pallone dalle tra le mani vediamo il posizionamento dei giocatori bianco-verdi dovrebbe farsi vedere De Vietro opterà invece per il pallone lungo in area di rigore dove svetta ancora il giocatore del Bari avete visto ancora una volta è scivolato proprio nell'area di rigore si scivola tantissimo non sappiamo il perché ma anche pochi minuti fa Sasanelli aveva avuto un'occasione ghiotta per cambiare il risultato ma è scivolato proprio nel momento più opportuno e allora il Bari sempre sulla destra con Lorusso allarga centralmente attenzione nessuno li va incontro e allora il pallone per Balducci e il tocco questa volta del giocatore del Monopoli providenziale ma vedete con quanta facilità i giocatori del Bari riescono a superare la metà campo senza che nessun avversario li vada incontro era proprio il giudizio che l'allenatore del Monopoli aveva espresso dalla panchina nei confronti dei propri giocatori troppo distante il il reparto attacco centro campo per cui hanno facile gioco i ragazzi in maglia bianco rossa Orlando su di lui De Michele Orlando supera la metà campo ma c'è ancora il Monopoli ultimo a toccare De Vietro dalle sue parti è difficile passare grande acume tecnico e molto tattico il numero 4 classe 2004 per lui Orlando un attimo perché il gioco è fermo e guardate come tutti corrono verso la panchina per cercare un po' di refrigerio un po' di acqua meno 5 minuti al termine tutti i calciatori in panchina sicuramente quelli del Monopoli per ascoltare le direttive del mister molto preoccupato da questa partita infatti non sta giocando come ci ha abituato la squadra bianco-verde è certo che però dopo tante vittorie consecutive il predominio in classifica e soprattutto il caldo di quest'oggi ha frenato un attimo la squadra bianco-verde senza dimenticare che però il Bari sta davvero giocando bene sia in rimessa che con azioni prolungate sugli scudi fino a questo momento per la squadra allenata dalla nera sicuramente il numero 5 è Catacchio e il numero 7 Colamesta entrambi del 2005 probabilmente ci sarà un cambio vedremo un po' nel Bari entra il numero 14 Nacci e dovrebbe uscire proprio Catacchio ancora un 2005 in campo con il numero 14 Nacci riprendiamo la telecronica diretta qui dal campo comunale Gaetano Scirea di Bitrito il Bari ancora in avanti fa buona guardia la difesa con le mani bella vista a servire il capitano Riefolo piattone per Fanelli rovesciata ancora il Monopoli contrasto alla meglio ancora Calefato Fanelli può entrare in aria lo fa in questo momento e il gol ancora in rete il numero 10 Sassanelli che va a prendersi i giusti applausi questa volta non ha avuto difficoltà il piattone destro a conclusione di una bella azione orchestrale da parte di Fanelli il cross al centro facile per il capo cannoliere del campionato sotto la traversa impossibile per Iurino pensare anche di arrivarci dunque mentre siamo al quasi alla fine del primo tempo il Monopoli con una giocata offensiva che ci ha abituato a guardare ne ha approfittato e ha messo la quarta cambiando il risultato 1 a 0 per la squadra allenata da Mimo Biasi la rete manco a dirlo di Sassanelli che porta a 8 il bottino fino a questo momento del suo score personale vediamo il Bari come reagirà dopo questo gol inatteso in realtà speravano i giocatori biancorossi di andare almeno negli spogliatoi con un pareggio uno striminzito 0 a 0 vediamo cerca Morisco di evitare il fallo laterale pallone troppo lungo Orlando in area di rigore pallone troppo lungo non ci arriva l'Obs fatalità o fortuna oppure bravura fatto sta che con appena è uscito Catacchio il giocatore che ben stava orchestrando la difesa il centrale proprio da quel punto Sasanelli ha colpito cambiando il risultato portando la squadra bianco verde in vantaggio Orlando di testa pallone fuori adesso si aspetta soltanto il doppio fischio del direttore di gara Sarcina pochi secondi al quarantacinquesimo probabilmente ci sarà un minuto di recupero sostanzialmente una partita che è filata tranquillamente ruba la palla Fanelli ancora lui si allarga Riefolo viene servito ma c'è l'intervento del difensore del Bari Morisco è solo fa scorrere il pallone nonostante l'arrivo in velocità di l'Obs Morisco con le mani troppo lungo per Sasanelli svetta Orlando e poi Lorusso ci pensa però Veniti fallo laterale con le mani c'è Riefolo siamo entrati ormai nel recupero Sasanelli anticipato da da Dario ancora il Monopoli entra in aria senza far fallo attenzione e a quanto pare non è uscito Catacchio ma Stella purtroppo dalla nostra postazione il numero non è ben visibile non ci sono peraltro neanche le tabelle luminose per segnalare i cambi dunque ce ne scusiamo ma rientriamo nuovamente in cronaca diretta proprio nel momento in cui c'è il duplice fischio del direttore di gara dunque si va negli spogliatoi un ottimo Bari un Monopoli cinico che porta a sé tre punti grazie all'ennesima rete di Sasanelli dunque a breve un secondo tempo che si preannuncia davvero esaltante Monopoli 1 Bari 0 bianco verde sei hai preso il cuore mio sciarpi al cielo avrai ovunque tu sarai tu da piano sei e dalla nostra città nasce un grido ora e sempre ora per noi in alto che puoi e noi qui con te un vento che soffia forse vorrà per noi Monopoli vai a segnare le vie in un sogno che noi viviamo qui viaggio senza età passione e libertà lo stadio canta già scendi in campo e vai tu che a piano sei nella nostra città il grande cuore ora e sempre ora per noi più in alto che puoi e noi qui con te un vento che soffia forte vola per noi Monopoli vai a segnare le vie in un sogno che noi viviamo qui vola per noi e noi qui con te un vento che soffia forte e vola per noi e noi qui con te non vi vai a segnare le vie di un sogno che noi viviamo qui e noi qui con te